Partita la campagna di screening per rilevare la presenza del virus HCV, la causa dell'epatite C. Una malattia che resta silente per anni, ma che può avere esiti nefasti come cirrosi e tumori al fegato. Un esame del sangue gratuito, senza ricetta, per tutti i nati, tra il 1969 e il 1989, per cercare di far emergere i positivi, che molte volte non sanno nemmeno di esserlo. Le terapie ci sono, si può guarire e si può limitare il diffondersi di questa malattia che è subdola e che rimane nascosta per anni. Partita la possibilità di fare uno screening gratuito per tutti i soggetti che sono nati fra l'89 e il 69. È un'occasione unica perché sappiamo che l'infezione da HCV molto spesso resta silente per anni, per decenni, e quando viene ad essere scoperta è ormai troppo tardi. Per cui questa è un'occasione da non perdere. Veramente invito tutti i cittadini che sono in questa fascia di età e che o vengono a fare prelievi in laboratorio o per altri motivi o che volontariamente vogliono venire a fare questo test, di farlo e di non perdere tempo.